Entra nel vivo l'attività della Procura di Benevento sulla vicenda dei contagi a Villa Margherita, la clinica Focolaio del Sagno. Dopo aver acquisito cartelle cliniche dei pazienti, da ieri i carabinieri hanno iniziato a raccogliere anche delle prime testimonianze degli operatori paramedici in quarantena domiciliare, dichiarazioni che sono avvenute con telefonate registrate e che saranno trascritte e acquisite come prove. L'obiettivo del pool di magistrati con a capo il Procuratore di Benevento Aldo Policastro è individuare eventuali responsabilità su una vicenda che nelle scorse settimane ha generato un escalation di casi nel Sagno, fino a quel momento capace di riuscire a contenere il numero dei contagi. Non solo contagi, ma anche morti perché delle 15 persone trasportate da Villa Margherita all'ospedale San Pio, 6 sono decedute. Sono un'ottantina invece i casi attualmente positivi collegati al centro di riabilitazione di Piano Cappelle, che sono in assistenza domiciliare e per i quali l'ASDA ha attivato l'USCA, l'unità speciale di continuità assistenziale. In pratica si tratta di visite a domicilio svolte da 7 medici reclutati proprio per l'emergenza Covid. Allora il compito anche di sorvegliare il focolaio di Paolisi, dove ieri sono stati seguiti 127 test rapidi, tutti negativi. Tra oggi e domani invece dovrebbero arrivare i risultati di 17 tamponi effettuati con i contatti diretti dei positivi riconducibili alla vicola Mauro. Intanto però, notizie rassicuranti arrivano dal San Pio, dove sono state dimesse due persone, entrambe residenti nella provincia di Benevento. Diminuisce così il numero dei pazienti nell'ospedale Beneventano. Sono 29 le persone ricoverate, di cui 25 sanniti.